Da tempo stavamo interroguendo con l'Università di Bari anche per completare il polo sanitario con la facoltà di farmacia, ci sono già numerosi iscritti, è una facoltà che potrà attrarre studenti anche da altre regioni e quindi rafforzare la vocazione universitaria della città. La regione ovviamente è disponibile a sostenere anche questo sforzo se l'Università ce lo chiederà dal punto di vista finanziario, diciamo che loro hanno fatto presente di avere bisogno circa di un milione di euro per rafforzare la loro capacità assunzionale di docenti e ovviamente con un percorso identico a quello della facoltà di medicina provvederemo a sostenere anche questa facoltà. Volevo cogliere l'occasione per dire che le delibere che riguardano la facoltà di medicina della regione Puglia sono complete, ci sono tutti i soldi ovviamente disponibili negli anni, man mano che l'Università farà i concorsi ci potrà chiedere il danaro già stanziato per procedere alle assunzioni, quindi non capisco le polemiche di questi giorni ma comunque a richiesta spiegheremo ogni cosa al sindaco che continua ad avere il nostro sostegno, la città di Taranto è sostenuta dalla regione Puglia come probabilmente nessun'altra città della Puglia. Grazie ai finanziamenti regionali e alla collaborazione piena e virtuosa col Comune stiamo impiantando altri corsi di laurea e stiamo impiantando proprio una collocazione di questi corsi di laurea dentro la città di Taranto e l'Università Aldo Moro è molto lieta di poter così far sì che Taranto abbia sedi adeguate alle esigenze di un capoluogo come quello ionico di ampia speranza e virtuoso per il proprio futuro. La previsione è notevole perché riguarda tutta l'area salentina che è ampia, ovviamente la zona ionica in primis, ma anche la basilicata che è sprovvista di questo, quindi il catino centrale di nostra valutazione, devo ringraziare anche l'ordine dei farmacisti che ci è stato vicino in questo, è di poter così recepire quella zona di parte della nostra regione e delle regioni attigue che oggi non si affacciano in altre città. Il Dipartimento è una questione che riguarda l'Università, quando ci sono dei docenti in una certa numerosità prevista dalla legge, per noi sono 50, quando noi avremo 50 docenti impegnati tutti quanti all'interno di uno stesso corso di laurea o di aree limitrofe, noi sicuramente provvederemo, su richiesta dei nostri docenti, alla Costituzione del Dipartimento. Ci tengo a dire che il Dipartimento è una struttura interna all'Università e che quindi a me poco interessa la costituzione di questo o di altri Dipartimenti che viene su progetti di ricerca, mi interessa di più invece allocare nel territorio, cosa che stiamo facendo con il raddoppio di informatica, con scienze ambientali e se mi permette anche con l'altro di veterinaria sul controllo dei sistemi alimentari, soprattutto ittici e di costituire una rete della ricerca. Il futuro di questo territorio, come di tutti i territori, è dentro quel patto costituzionale fra cittadino e Stato. L'Università è sicuramente nelle intenzioni diffuse delle istituzioni locali, come dico sempre, un pivot di cambiamento, un soggetto, un contenitore che può generare classe dirigente, può generare stimoli per il sistema di imprese, può generare anche quello scarto in termini qualitativi della cultura diffusa, della nostra comunità che ha bisogno di scrollarsi dalle spalle certi pianisti, insomma la sensazione che non si possono fare le cose o che qui le cose sono difficili. No, questo è un luogo che sta facendo cose importanti, che sta facendo cose belle anche più di altri territori in questo momento del Mezzogiorno d'Italia e dobbiamo essere orgogliosi. Siamo stati molto contenti di accogliere l'interesse del corso di farmacia, di sostenerlo e di trovare insieme a loro e al direttore Leonetti tutte le soluzioni che possano in qualche maniera dare ricadute positive di accessibilità, di attrattività all'utenza, agli studenti locali e non solo, nell'ottica come dicevo di in qualche modo anche collegarsi agli investimenti che si stanno facendo in questi anni dal Policlinico San Cataldo alla Scuola di Medicina. È il motivo per cui mi sono sentito anche di rammentare alla Regione Puglia che abbiamo bisogno di riprendere in mano le questioni insolute per la creazione di un Dipartimento Biomedico. Noi abbiamo anche una grande presenza in termini di scienze infermieristiche a Taranto e rispetto ai bisogni degli studenti e del corpo docenti dobbiamo ancora lavorare molto. Però oggi è una bella giornata, siamo veramente grati all'Università Aldo Moro e al corso di farmacia che ha inteso scommettere ancora una volta su questa città. Ora sta a noi in qualche maniera a creare l'ecosistema confortevole perché l'operazione sia di successo. Un'altra giornata importante per la terra ionica perché si arricchisce di un altro percorso formativo si arricchisce della facoltà di farmacia e un arricchimento importante per questo territorio, per questa comunità. Noi domani, scusate se approfitto, abbiamo una o due giorni sugli ospedali del terzo millennio perché vuole essere un momento di propedeutico alla funzionalizzazione del nuovo ospedale San Cataldo e quindi anche di buon auspicio l'attivazione della scuola della facoltà di farmacia qui a Taranto. Quindi è un momento importante e che condividiamo con il presidente dell'ordine dei farmacisti, con il magnifico rettore Bronzini, proprio perché c'è un'attenzione per Taranto che quindi per alcuni versi recuperiamo un po' di tempo perduto. Però possiamo rilanciare e quindi essere primi anche per quanto riguarda questi processi formativi.